Amici modellisti, amici di Model on Passion, benvenuti sul canale YouTube di Model on Passion in questo nuovo appuntamento con la storia, potremmo dire, la history, la serie history di Model on Passion e come ormai chi ci segue per questa serie, come ben sapete stiamo realizzando una ricostruzione storica, e questo ovviamente lo stiamo facendo passo dopo passo, pezzo dopo pezzo del periodo napoleonico e in particolar modo, periodo del 1815, la ben nota battaglia di Waterloo come diciamo uno dei tanti nomi che presenta la battaglia, ma comunque a prescindere questo aspetto dei nomi, di cui poi ovviamente parleremo in un video un po' più specifico, tutti coloro che sono interessati ad avere informazioni per quanto riguarda le uniforme, per quanto riguarda i dettagli, per quanto riguarda anche la realizzazione di diorami, quindi di azioni, di scene da realizzare in maniera molto specifica, vi consigliamo di tenere sotto occhio ovviamente il canale di Model on Passion e la serie history, c'è appunto questa qui, dove nella playlist potete trovare tutti i video e troverete anche i video specifici sulle informazioni da utilizzare per le vostre realizzazioni. Allora come potrebbero vedere dall'immagine, perché abbiamo appunto messo questo tipo di immagine, oggi vediamo come siamo andati a realizzare un cavallo, uno dei cavalli del famosissimo kit delle Taleri in scala 1.72 del French Imperial General Staff di Napoleone, quindi il kit dove trovate Napoleone Bonaparte e gran parte degli ufficiali e dei generali, quelli più vicini insomma al quartier generale, durante la battaglia di Waterloo. Allora, in questo tipo di riproduzione noi siamo andati e andiamo, diciamo, a preparare la colorazione, da zero fino alla fine, del cavallo che dovrà ospitare quello che è l'ufficiale di artiglieria cavallo. Per quanto riguarda quello che noi andremo a fare, come vedete all'interno di questo nostro cavallo, abbiamo prima di tutto effettuato una primerizzazione. Per i cavalli la primerizzazione che in genere noi andiamo a fare non abbiamo optato per una primerizzazione chiara, per il semplice fatto che utilizziamo un colore di fondo che sia utile, importante, che può essere poi ripreso come sottofondo alla colorazione successiva. Anche se ci saranno diversi layers, diverse sovrapposizioni di colore, comunque noi lasciamo sempre questo colore nocciola, quindi questo colore marrone nocciolato di fondo. Una volta che abbiamo effettuato con un pennello molto, 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 diciamo, asciutto, quindi andiamo a effettuare questo brushing superficiale molto leggero, questo è il motivo, come abbiamo detto anche in altri video, perché i pezzi in questo caso, in scala 1 a 72, sono molto piccoli, quindi questa è una tecnica che non vale in genere, non è l'unica e ovviamente vale per questa realizzazione, ma può valere anche per altra. Quindi prima di tutto abbiamo fatto questa copertura molto leggera, quindi con il pennello quasi asciutto, sul nostro pezzo. Una volta fatto questo, che cosa abbiamo fatto? Ci siamo muniti di colori misti, abbiamo utilizzato sia i colori taleri, per questa realizzazione, il nocciola per esempio era un taleri, sia a colori tamia, quindi ovviamente si può andare a utilizzare qualsiasi tipo di colore, noi in questa realizzazione abbiamo utilizzato questa tipologia. Nel caso appunto dei tamia siamo andati ad utilizzare un marrone rosso, quindi un red brown, e questo red brown l'abbiamo diluito in un rapporto più del doppio, a volte in alcuni casi come prima mano il triplo, rispetto al colore stesso. Quindi una goccia di colore e due, tre gocce a seconda della densità del colore di acqua, semplice acqua, non diluente, non nulla, semplice acqua. Una volta che con il pennellino siamo andati a effettuare una sorta di copertura, il pezzo si mostrava prima dell'asciugatura come in figura, cioè abbiamo realizzato delle maculazioni di colore. Se avessimo utilizzato un colore netto, parliamo nel caso per esempio degli taleri, la pastosità e la densità del colore, quindi la carica del colore, avrebbe creato seri problemi ai dettagli del cavallo e la colorazione sarebbe stata fuori scala rispetto al pezzo, quindi è sconsigliata. Nel caso di Tamiya, come in questo caso perché siamo andati a utilizzare i famosissimi Tamiya, anche qui andare a utilizzare il semplice color Tamiya su questo tipo di pezzo, non avendo effettuato una primerizzazione di fondo, ma abbiamo utilizzato un semplice colore, questo fa scivolare enormemente il colore, quindi istintivamente cosa fate? Prendete più colore dalla boccettina, quindi avrete lo stesso effetto, quindi si vede praticamente che è una copertura colorata, rispetto al cavallo stesso. Quindi abbiamo optato per un pin washing, come in genere si dice, quindi un washing praticamente puntinato per permettere questa maculazione, si vede molto bene la parte anteriore della gamba, del cavallo, che proprio è una maculazione. A, diciamo, asciugatura di quest'ultimo abbiamo fatto la stessa cosa, quindi sempre un pin washing, ma abbiamo utilizzato un flat black della Tamiya, quindi un XF1. Abbiamo quindi rapportato come sempre una goccia, quindi uno a tre, rispetto all'acqua, acqua normalissima, e abbiamo anche qui fatto un pin washing a seconda dell'ammaculazione che vogliamo andare a realizzare. Quindi qui, insomma, non andiamo a coprire tutta la superficie del cavallo, tutto il pelo del cavallo, ma andiamo a cercare la nostra profondità. Stiamo realizzando profondità. Lasciamo sempre asciugare tra uno strato e l'altro. Una volta che questo pin wash nero si è asciugato, abbiamo effettuato un'altra fase importante. Abbiamo preso il nostro colore brown e non abbiamo più effettuato il pin wash, ma con il colore carico, perché ancora sotto era ancora umido, quindi non deve completamente asciugare, si deve maggiormente rapprendere. Andiamo a posizionare, a puntinare, a creare, diciamo, le fasce muscolari del nostro cavallo. Quindi focalizziamoci questa volta non più sulla tridimensionalità del colore di fondo, ma andiamo a mettere in risalto le fasce muscolari del nostro cavallo e andiamo a circuire con un micropennello proprio queste fasce muscolari. E come potete ben vedere dall'immagine incomincia a risaltare enormemente quello che è proprio la struttura muscolare dell'animale stesso. Arrivato a questo punto, che cosa facciamo? Coloriamo con il tamia, in questo caso non abbiamo fatto diluizione, la criniera e la coda di nero e lasciamo asciugare. Una volta che il pezzo si è asciugato, la parte più bassa delle zampe noi le abbiamo colorate con un dark grey, dalla figura si vede un XF24 e in questo caso abbiamo fatto un rapporto 1 a 2 rispetto al colore, quindi una parte di colore, una goccia di colore, due gocce di acqua e sostanzialmente deve essere meno liquido, ecco questo è il discorso. E abbiamo messo il colore sia sugli zoccoli del cavallo e abbiamo piano piano portato tutta la densità del colore verso la parte più alta della zampa, andando a cercare di creare questo effetto di doppio pelo. Questa caratteristica appunto del doppio pelo non sarà ovviamente l'unica, la sola, perché adesso, come andremo a avvenire nella fase successiva, andremo a dare profondità anche alla parte sottostante. Continuiamo a questo punto a lavorare sul pezzo. Tralasciamo, come abbiamo detto anche in altri video, il completamento, in questo caso della parte sottostante della zampa, lo lasciamo non completato perché lo andremo a completare una volta che stiamo per realizzare il diorama, per introdurre invece la lavorazione della sella. Per la parte della sella abbiamo utilizzato il solito blu 4307 AP dell'Italeri, quindi non un gloss ma un flat, e andiamo poi a scurirlo leggermente sempre con il nero della stessa marca, quindi Italeri. Il tipo di scurimento del colore non è uno scurimento molto accentuato, ma abbiamo utilizzato semplicemente il 10-15% di nero sul restante blu. Quindi abbiamo semplicemente tolto l'effetto troppo pulito, troppo nuovo del blu 4307 AP. A questo punto, una volta che noi abbiamo fatto, vedete, la copertura di tutto la sella, l'abbiamo smorzata un poco di tonalità con un wash black. Quindi abbiamo semplicemente preso il nostro colore nero dell'Italeri, lo abbiamo mescolato con un po' di acqua, l'abbiamo reso molto 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 acquoso, si tratta praticamente più acqua che colore, e abbiamo stemperato leggermente sulla sulla sella. Questo per cercare di togliere questa regolarità di colore. Non vi preoccupate se il colore rimane ancora uniforme, perché poi andremo a fare in post-produzione una lavorazione specifica sulla lumeggiatura e sui chiaroscuri. Una volta che il pezzo è stato verniciato, andiamo ulteriormente a rifinire i bordi. I bordi li abbiamo, siccome dalla fotografia precedente avete visto, abbiamo colorato di blu tutto, quindi compreso i bordi, per fare in modo che il colore possa emergere in chiaro rispetto, diciamo, al fondo della sella, abbiamo preparato prima un ispessimento del bordo e lo abbiamo fatto con il bianco, sempre Italeri, sempre un flat. Abbiamo rifinito praticamente i bordi, lo abbiamo fatto asciugare e poi siamo passati alla fase successiva. La fase successiva, come si può vedere da questa immagine, abbiamo ripassato il bianco con, diciamo, il gold, il colore oro, sempre dell'Italeri, e lo abbiamo poi successivamente scurito con un gold un po' più scuro, cioè scurito con un arancio, semplicemente il 10%, e poi con un pochettino di tinte di marrone sullo scuro. A questo punto abbiamo ripassato in lumeggiatura leggermente un gold chiaro e lasciamo il pezzo esattamente così come andate a vedere. Il prodotto che otteniamo alla fine sarà un prodotto di una sella con caratteristiche, appunto, differenti di tonalità, ed inoltre avremo anche un effetto di un bordo che non è dello stesso spessore della sella stessa. Purtroppo, e sottolineiamo purtroppo, i colori italeri su una scala 1 a 72 vanno bene soltanto per alcune parti, cioè le parti più ampie. Le parti che invece determinano, sono caratterizzate da una, diciamo, dettagli molto molto piccoli, perché qui vi ripetiamo, è 1 a 72, non una scala più grande, vanno leggermente a coprire un po' troppo i dettagli, cioè nel senso che dovremmo andare a diluire il colore, ma diluendo il colore sempre con un diluente della stessa marca, abbiamo visto che l'effetto non è proprio esattamente quello che noi vogliamo realizzare, quindi abbiamo preferito lasciare lo stesso con lo stesso, ma ovviamente si può cambiare per i dettagli molto più piccoli, andare a utilizzare non un colore vinilico, ma andare a utilizzare un colore di altro genere, quindi Model Master per esempio, andare a utilizzare dei Gunz, oppure anche dei Valleio, ma che non siano della linea vinilica. I Tamiya su queste tipologie ve li sconsiglio un pochetto, perché i Tamiya essendo molto diversi rispetto diciamo alla base che noi andiamo a mettere di sotto, non andrebbero ad aderire alla porzione del colore stesso. Una volta che noi abbiamo rifinito il pezzo così come lo andate a vedere, ci fermiamo, ma ovviamente la preparazione del pezzo non è finita qui, questo è soltanto il colore di base che noi faremo asciugare per bene e faremo stabilizzare nel tempo. Nel frattempo noi andiamo a preparare tutti gli altri pezzi e tutti gli altri pezzi e quando poi li andremo a completare? Li andremo a completare quando prepareremo il diorama. Lì giocheremo sulle ombre, andremo a sfumare i colori che noi abbiamo fatto di base e andremo anche a dare il senso di vissuto al pezzo. Se noi questo lo andassimo a fare in questo step, cioè nella prima parte, avremo una omologazione dei pezzi. Invece quello che noi dobbiamo andare a fare è andare a giocare come un regista sui punti luce, punti ombra e soprattutto sull'azione di ogni singolo pezzo. E questo si può fare soltanto nel momento in cui tutta la scena è stata preparata, studiata ed è pronta ad essere montata. In quel caso noi andremo a lavorare ulteriormente su questi pezzi e vedremo insieme, vedrete perché lo faremo online, quindi lo vedrete tranquillamente, come andremo a riprendere questi pezzi e li andremo a rendere molto più realistici rispetto a come sono ora. Amici modellisti, grazie di averci seguito nel History di Model on Passion sul Napoleonic, insomma in scala 1 a 72 e non perdete quelli che sono, se non sono già online, i video storici che abbiamo preparato proprio per migliorare nella preparazione delle uniformi, eccetera eccetera, o anche degli scenari di tipo napoleonico e nello stesso tempo se invece non sono ancora online, attendete, aspettate che usciranno presto questi video specifici che raccontano come poter riprodurre al meglio il mondo di Napoleone e diciamo dell'800, 700, fine 700, fine 700, 800. Amici modellisti, grazie di averci seguito e al prossimo video History di Model on Passion. Ciao a tutti da Model on Passion.